eccoci siamo live 5 minuti di anticipo adesso intanto aspettiamo che si connetta qualcuno poi partiamo a rispondere a tutte le domande che che mi avete fatto nei giorni scorsi settimana scorsa e tutte le domande che non sono riuscito a rispondere nell'ultima live quindi tante ne ho già segnate qua tante arriveranno arriveranno in live e risponderò man mano intanto ciao vincenzo e ciao matteo benvenuti eccoli i primi ciao jessica aspettiamo un minuto due poi partiamo dai se avete già domande da fare scrivetele così poi vi rispondo parleremo magari un po più nel tecnico oggi rispetto all'ultima volta quindi andremo a parlare un po di quelle che sono le facebook ads e però avrò anche modo di rispondere altre domande come per esempio la domanda che mi hanno fatto è come mi vedo tra 30 anni a 30 anni oppure qualche libro interessante da leggere eccetera eccetera innanzitutto mi sentite bene mi vedete bene scrivetemelo perché altrimenti non partiamo ditemi se mi sentite bene per favore mi sentite mi sentite bene ciao giuseppe ciao nico ok grazie matte grazie che mi hai detto che ci sentite ciao intanto dai io direi che possiamo iniziare allora la prima domanda è di tommaso e mi chiede una cosa un po tecnica e chiede cos'è il targeting cose sono cosa sono le custom audience e le lookalike allora partiamo facendo una panoramica generale di quelle che sono le facebook ads per chi non lo sapesse sono quelle inserzioni a pagamento che voi vedete su facebook e instagram quando scrollate il feed quindi oltre a vedere i post dei tuoi amici e delle pagine che segui vedi anche dei post con scritto sponsorizzato e quelle sono le cosiddette facebook ads che puoi fare tu e possono fare le aziende può farle chiunque di base come come vengono strutturate queste facebook ads si parte aprendo un quello che è il business manager ovvero quel contenitore dove alla fine metteremo dentro i tuoi account pubblicitari ne basta anche una realtà quindi una volta aperto il business manager si va a collegare quelle che sono le pagine facebook e pagine instagram della tua azienda della tua attività o anche nel mio caso potrebbe essere anche il mio personal brand quindi la pagina matteo mangili la collego al business manager dopodiché cosa succede andiamo a collegare l'account pubblicitario quindi andiamo a creare un account pubblicitario dove faremo partire le nostre inserzioni da qui una volta entrati andiamo in gestione inserzioni e abbiamo la possibilità di creare le nostre campagne quando noi clicchiamo su crea campagna cosa succede praticamente ci viene ci viene offerta una serie di obiettivi che partono da notorietà del brand partono a copertura e queste sono più obiettivi per far vedere il nostro brand la nostra attività più persone possibili poi entriamo nella seconda categoria che sono quelle un po più di interazione possiamo dire e quindi ci sono obiettivi come interazione oppure messaggi oppure generazione di contatti infine arriviamo a quelle un po più corpose che sono le campagne per conversione dove lì lo vero obiettivo è convertire quindi conversione acquisto conversione per aggiunta al carrello conversione lead eccetera eccetera questa è un po la panoramica quello che mi chiede tommaso mi chiede cos'è il retargeting allora il retargeting si tratta cioè praticamente con facebook tu puoi andare a colpire sia persone che non ti conoscono sia persone che hanno già interagito con te quindi quando vai a colpire persone nuove si tratta di pubblico broad pubblico freddo quindi freddo perché non ti conosce nel frattempo sta passando un aereo spero che non si senta molto ok pubblico freddo è quindi quello che non ci conosce viceversa il pubblico caldo è quello che ci conosce già quindi quando noi andiamo a fare una campagna di retargeting o remarketing andiamo colpire persone che hanno già interagito con noi come possiamo farlo qua ci colleghiamo alla seconda domanda di tommaso che ci chiede cosa sono le custom audience le custom audience non sono altro che dei pubblici personalizzati creati sulla base dei dati che già abbiamo quindi se noi abbiamo installato il pixel che è un codice che possiamo inserire nel nostro sito tutti quelli che hanno visitato il nostro sito hanno lasciato dei dati al pixel e da grazie a questo pixel noi possiamo creare un pubblico personalizzato quindi una custom audience sulle persone che hanno visitato il nostro sito quindi persone che ci hanno già conosciuto hanno già interagito con noi inoltre possiamo creare delle custom audience su pubblici che persone che hanno guardato un video per esempio se noi abbiamo un video in pagina e le persone l'hanno visto per il 50 per cento 20 per cento noi possiamo andare a creare dei pubblici personalizzati per queste per queste categorie oppure ancora si può creare un pubblico su chi ha lasciato mi piace alla tua pagina piuttosto che un pubblico su chi ha interagito e ha messo like ai tuoi post quindi questo è una breve spiegazione su quelle che sono le custom audience mentre le lookalike qua si parla invece di pubblico freddo ma molto simile alle persone che hanno magari fatto un'azione quindi la lookalike è di per sé un pubblico simile facebook ci dà la possibilità di creare delle lookalike su persone che hanno compiuto determinate azioni quindi se noi abbiamo ricevuto 100 acquisti 500 acquisti sul nostro sito grazie ad una campagna di facebook ads noi non dobbiamo più andare a colpire pubblico freddo per interessi o per caratteristiche demografiche basta andare a creare delle lookalike che possono essere dell'1 per cento 2 per cento 3 per cento e facebook ti crea un pubblico di persone simile a quello che tu gli chiedi quindi se le persone hanno acquistato sul tuo sito facebook creerà un pubblico simile a quelle persone quindi potenzialmente molto in target con quello che è la tua attività quindi se 500 persone hanno acquistato facebook ti crea un pubblico di 400 mila persone un milione di persone simile alle persone che hanno acquistato quindi capisci che ti evita anche lo sforzo di andare a cercare sempre nuove persone a cui mostrare il tuo prodotto servizio e questo è molto bello è una cosa molto potente che facebook ti permette di fare quindi spero di aver risposto alla domanda di tommaso per quanto riguarda retargeting custom audience e lookalike allora un'altra domanda invece è errori da non fare negli split test allora gli split test cosa sono o abi test dipende come li vogliamo chiamare sono quei test ciao mirco intanto ciao mirco e ciao thomas gli split test cosa sono sono dei test appunto dove andiamo a testare determinate cose delle nostre inserzioni per esempio si possono testare le creatività si possono testare gli adset si possono testare gli interessi per capire per esempio se un interesse funziona o meno andiamo a inserirli 3 4 5 e dopo un mese di tempo dopo x budget speso andiamo a vedere questo interesse ha portato questi risultati questi altri interessi ha portato questi risultati questo ne ha ottenuti di migliori teniamo questo e andiamo a scalare su quell'adset idem anche per le campagne possiamo provare una campagna per per messaggi una campagna per lead generation una campagna per traffico sul sito le proviamo tutti e tre dopo un mese dopo due mesi vediamo che quella per traffico non converte la spegniamo e spostiamo il budget sulle altre due campagne quali errori sono da evitare sicuramente è testare più cose insieme un errore che vedo spesso fare è persone che testano 5 10 creatività insieme 10 coppie diversi e poi continuano a cambiarli sperando di ottenere risultati quando fate un test dovete cercare di isolare le variabili perché se tu mischi tutto insieme e testi tante cose insieme praticamente non saprei mai quella che funziona e quella che non funziona quindi se tu vuoi testare una creatività un'immagine un video metti un'immagine immagine a immagine b lasci lasci uguale il testo per entrambe così al termine del test tu sai che a parità di testo a parità di call to action una parità di campagna di interesse l'immagine 1 ha per formato medio dell'immagine 2 e quindi andrai a eliminare l'immagine 2 terrai l'immagine 1 poi se il mese successivo vuoi testare il testo il copy terrai l'immagine 1 che hai visto che funziona e vai a testare un copy diverso due copy diversi copy a copy b a termine del mese dirai questo ha funzionato questo non ha funzionato l'errore è quando vai a mettere insieme troppe variabili e da lì non capisci più se è l'immagine il testo la call to action che performa meglio di altre quindi cos'è che converte l'immagine il testo boh devi testarle singolarmente quindi spero di spero di aver risposto alla domanda ciao cino madonna ma quante ne sa questo ragazzo grazie cino lo sai che apprezzo sempre il tuo parere intanto ciao morena e ciao anche a federico che ci ha raggiunto il live vediamo la prossima domanda che mi ero segnato come fare un'analisi corretta dell'audience allora io vi posso dire come come lavoro io allora praticamente quando devo andare a testare un c'è un cliente che mi chiede voglio trovare clienti per la mia attività prima cosa che faccio è andare a vedere i competitor quindi vedo cosa fanno le altre persone quindi se devo vendere caffè posso andare sul sito di nespresso lavazza o altre cose e vedere come si stanno muovendo queste aziende lo so che non sarebbe cioè non è la stessa cosa se c'è un negozietto piccolo che mi chiede questo servizio piuttosto che lavazza o altre marche però capire come si muovono i big dal settore capire quali campagne fanno quali creatività usano quali copy usano quali sono gli angoli che usano queste aziende per andare a colpire il target ti aiuta poi a capire come utilizzarla anche per i tuoi clienti quindi la prima cosa che faccio è studio dei competitor se ci sono di solito ci sono se non ci sono è un problema perché vuol dire che il tuo prodotto o è rivoluzionario oppure non c'è mercato e quindi conviene conviene rivedere magari l'offerta ma quello è un altro discorso l'altra cosa molto importante che consiglio a tutti quando fai un'analisi dell'audience è non partire dalle presupposizioni mi spiego se io parto con l'idea che il mio pubblico il mio target è uomo dai 20 ai 40 anni sposato senza figli cioè ci sta ma devi averlo dedotto da qualcosa cioè devi avere dei dati delle basi sul quale dire ok questo è il mio pubblico di riferimento perché la maggior parte delle volte mi viene detto questo è il mio pubblico di riferimento poi vai a vedere fai dei test e vedi che il pubblico che converte meglio è tutt'altra persona quindi quando fai l'analisi dell'audience non basarti su quello che pensi tu basati sui dati e su uno strumento fantastico che facebook ci offre che è audience insight praticamente con questo tool tu puoi entrare su audience insight inserire prima cosa il luogo quindi se vendi in tutto il mondo metti tutto il mondo stati uniti o dove vendi se vendi in italia metti italia oppure addirittura potresti stringere e vedere nella tua zona in lombardia per esempio cosa funziona e cosa non funziona tu metti italia poi dopo puoi andare sotto e poi scrivere un interesse per esempio se tu devi trovare qualcuno che piace la cucina per esempio potresti iniziare a scrivere cucinare l'interesse cucina o robe simili e vedrai che ti escono una serie di dati su su demografica quindi ti dicono quali sono i clienti che potrebbero essere interessati a questo argomento quindi cucinare e ti esce magari che ne so 60 per cento donne 40 per cento uomini che range di età 18 anni 24 anni oppure 18 50 anni e almeno ti fai già una scrematura del tuo pubblico perché non possiamo andare a colpire tutti perché a meno che hai un budget elevatissimo e dici andiamo broad quindi andiamo su tutta italia indifferentemente ma si fa poche volte dato che nella maggior parte dei casi il budget è sempre un po' risicato dobbiamo andare dritti come un raggio laser sul nostro target per trovarlo usiamo quindi audience insight che ci dà una serie di informazioni un'altra cosa importante che ci dà audience insight è il mi piace di quelle persone di quella categoria quindi le persone a cui piace l'interesse cucinare che hanno mostrato interesse cucinare per esempio io ho fatto una ricerca ed è uscito che queste persone mettono mi piace a pagine come Alessandro Borghese, Iginio Massari, Masterchef e robe così quindi questi sono tutti interessi che poi noi possiamo andare a testare e vedere se funzionano o meno quindi quando fai lo studio dell'audience l'importante è non basarsi su quello che pensi tu fare una ricerca dei competitor e usare audience insight che è uno strumento gratuito favoloso intanto saluto Immo Sanremo che è un mio cliente e è un piacere averti qui in questa live e anche Domenico Maggi che ci ha raggiunto adesso allora passiamo ad altre domande quindi queste erano un po' sull'advertising ne faccio ancora una sulle ADV poi dopo ne ho altre un po' più personali e vedo che ne stanno arrivando altre anche qua nei commenti quindi andiamo per step allora oltre alle ADV Marco Rover ci chiede se mi occupo di grafiche allora se si intende grafiche per i miei clienti quindi si ma inteso come grafiche che vanno poi nelle campagne di advertising quindi se io devo creare una campagna per un mio cliente io personalmente ancora mi occupo di creare le grafiche dato che comunque se mi seguite su Instagram vedete il mio profilo penso sia oggettivamente carino da vedere cioè non mi ritengo un professionista non sono un grafico però penso di avere come diceva Filippo nella scorsa live buon gusto diciamo quindi oltre a questo so le leve psicologiche che stanno dietro alle persone quelle cose che fanno scattare il trigger quindi quelle persone che ti fanno cliccare quelle cose che ti fanno cliccare sull'annuncio diciamo quindi si mi occupo io delle grafiche ma spesso basta davvero poco cioè se di base il cliente ha delle belle immagini soprattutto a livello locale basta davvero immagini ben fatte carine del locale piuttosto che della persona, del proprietario, dello staff o se sei un ristorante di qualche bel piatto cioè non serve inventarsi chissà che cosa anche perché poi Facebook sai che se metti troppo testo nell'immagine te lo penalizza quindi non serve scrivere chissà che cosa creare chissà che grafiche basta davvero un'immagine che mentre scrolli ti blocca l'attenzione cattura l'attenzione e ti faccia cliccare come ho parlato in un video su YouTube catturare l'attenzione degli utenti praticamente spiego che l'obiettivo delle ads non è convertire e trovare nuovi clienti o vendere il prodotto l'obiettivo delle ads è portare traffico su quello che è il tuo sito su quello che è la tua landing page nel tuo flusso di mail comunque portarlo fuori da Facebook quindi l'obiettivo non è vendere direttamente durante quando tu fai vedere l'inserzione ma è attirare l'attenzione e far nascere in te quella domanda che è voglio saperne di più di cosa parla e quindi poi dopo una volta che vanno sul tuo sito lì vai a convertirli che può essere appunto un sito può essere una chiamata telefonica e tante altre cose quello è il processo di conversione dipende da tante cose e quindi sì mi occupo di grafiche per i miei clienti come servizio di social media manager che crea immagini, video per i profili o ottimizzazione profilo la risposta è no, non mi occupo di quello perché spesso mi capita di vedere persone che mi chiedono ciao mi curi il profilo Instagram, mi curi il profilo Facebook e io devo dire no perché io non mi occupo di quello cioè conosco persone ho delle persone in gamba che se ne occupano e quindi se tu me lo chiedi io ti posso girare a loro ma di per sé io non lo faccio però le grafiche per le campagne pubblicitarie la risposta è sì le creo io e le faccio io come il copy come il copy e il testo che creo per le inserzioni un futuro mi piacerebbe poi prendere delle persone che si occupano sono di quello cioè le grandi aziende le grandi aziende, le agenzie fanno così cioè c'è chi si occupa di ads c'è chi si occupa di grafica c'è chi si occupa di copy ed è giusto così perché sono delle macro sezioni interessanti ma molto ampie da approfondire ciascuna cioè non si può fare tutto però all'inizio quando sei all'inizio della tua carriera da freelance è normale ed è anche giusto farle perché almeno in un futuro saprai come delegare e saprai quando una cosa è fatta bene e fatta male perché tu le hai già fatte su le hai già testate e fatte di tua spontanea volontà quindi spero di aver risposto anche a questa domanda poi come ti vedi a 30 anni questa è una domanda molto personale e tra l'altro cose belle.festival dice specializzarsi è la chiave del successo siamo stufi dei tuttologi sono assolutamente d'accordo guarda non potevi dire una cosa migliore tra l'altro ho fatto anche un post forse circa una settimana o due fa dove scrivo proprio dedicati a una nicchia perché devi diventare bravo in una cosa non serve diventare bravo in tutto devi essere bravo in una cosa e fare bene solo quella ovviamente all'inizio è giusto anche farsi contaminare quindi imparare a fare più cose uno per la tua crescita personale e due come dicevo prima quando puoi andare a delegare queste mansioni saprai quando uno fa bene questo lavoro quando non lo fa bene quindi sono assolutamente d'accordo tornando alla domanda di prima come ti vedi a 30 anni è difficile è una domanda da un milione di euro io posso dirti quello che mi piacerebbe diventare un imprenditore digitale assolutamente quello è il mio obiettivo aprire un'agenzia di marketing certo assolutamente posso dirti che nell'ultimo anno ci sono stati tanti cambiamenti nella mia vita come ben sapete ho lasciato il mio lavoro mi sono mi sono dedicato solo a questa attività sono diventato un freelancer e quindi se io ci avessi pensato due anni fa non avrei mai detto una roba del genere quindi tu chiedendomi da qui quando avrò 30 anni ora ne ho 22 quindi tra 8 anni cosa farò è una bellissima domanda cioè non so la risposta però mi piacerebbe essere un imprenditore digitale ma vuol dire tutto e vuol dire niente perché magari tra due anni cambiano le priorità e mi interesso ad altro cioè la vita ti mette di fronte a strade che non avresti mai pensato di intraprendere quindi è una domanda difficile ma bene o male quella è la mia idea poi chi lo sa cosa succederà tra cui 8 anni boh e quindi spero di aver risposto anche a questa domanda e per collegarmi a questa sempre Thomas mi chiede differenza di stile di vita tra operaio lavoro normale e digital marketer allora la differenza principale che io ho notato è il fatto di essere più libero cioè io l'ho fatto non per lo stipendio non per a parte che se sei un freelancer non hai uno stipendio cioè un mese puoi guadagnare mille il mese dopo 10.000 il mese dopo zero quindi non è questione di soldi io ho sempre detto quando lavoravo io facevo l'operaio per chi non lo sapesse facevo l'operaio in un'officina metalmeccanica mi occupavo quindi di creare creare pezzi lavorare pezzi al tornio pezzi meccanici vabbè non era la mia strada ma ci sta ho provato e non era la mia strada meno male che ho scoperto il digital marketing e questo mi piace io sempre quando ero lì dicevo sempre guarda io pagherei per guadagnare meno perché comunque guadagnavo un buon stipendio facendo l'operaio metalmeccanico sono pagati bene e pagherei per guadagnare meno ma fare qualcosa che mi piace di più e essere più libero e quindi è quello che ho fatto io ora meno male guadagno bene anche adesso però la cosa che mi ha svoltato è stato il fatto di di essere libero di alzarmi quando voglio se c'è un impegno non devo chiedere le ferie non devo chiedere permessi ma posso farlo la libertà di viaggiare cioè io amo viaggiare e c'era sempre sto problema in ditta che dovevo chiedere le ferie tipo tre mesi prima sei mesi prima per andare anche che ne so una settimana a dicembre scusa dicembre ad agosto anzi tra l'altro c'erano degli slot proprio bloccati cioè io per esempio a luglio non potevo perché c'erano delle consegne in azienda da fare quindi non potevo andare in vacanza a luglio e ero costretto ad andare agosto quando tra l'altro poi a ferro agosto si sa che i prezzi schizzano alle stelle e quindi io amo viaggiare questa cosa mi dà la possibilità di prendere il 5 ottobre prendere partire due giorni andare a barcellona oppure adesso io ho prenotato a luglio faccio una settimana a tenerife e una settimana vado a barcellona con mio fratello e non devo dire niente a nessuno mal che vada se ho lavoro da fare prendo dietro il mio computer e vado a barcellona col computer poi ovvio che di giorno visito magari poi la sera mi connetto e guardo le cose che devo fare eccetera eccetera questa è stata la svolta della mia vita che anche se relativamente lo faccio da poco perché è da poco che mi sono licenziato e non ho ancora avuto la possibilità di viaggiare perché c'è stato il coronavirus però questo è il cambiamento più netto che ho avuto da quando ho mollato il mio lavoro e mi sono dedicato a questo tanto ciao Enrico Pisani ciao Press benvenuto in questa live allora per concludere questa domanda un'altra cosa che mi piace molto è il fatto di potermi svegliare quando voglio adesso io non è che mi sveglio alle 10 di mattina perché comunque io so che ho delle cose da fare ho il lavoro da fare quindi mi sveglio alle 7 7 e mezza però prima quando andavo al lavoro ero obbligato ad alzarmi alle 6 alle 6 dovevo alzarmi perché dovevo andare prendere la macchina guidare andare al lavoro ora non ho più di quei problemi cioè io potrei anche svegliarmi alle 10 se c'è un giorno che io so che mi sono portato avanti quel lavoro non ho nulla da fare chi mi vieta di alzarmi a mezzogiorno adesso non lo faccio però posso farlo capisci quindi la differenza tra vita da lavoratore operaio dipendente diciamo e digital marketer libero professionista non è tanto secondo me nel guadagno che anche quello è importante perché diciamo che è illimitato dato che il prezzo lo fai tu tu non hai un fisso mensile il prezzo lo puoi far tu a un cliente gli puoi chiedere x tra un anno sei diventato bravo puoi chiedere x per due cioè il doppio e inoltre puoi anche gestirti i clienti cioè se una persona non rispetta i tuoi valori cioè se una persona è arrogante ti tratta male non rispetta le scadenze non ti paga cioè non accettarla cioè non lavorare con lui gli dici tanti saluti infine dalla storia ne vai a cercare un altro cioè il mondo cioè io ho scoperto che c'è pieno di persone che hanno bisogno di questo servizio del servizio che io offro di pubblicità online e allora perché dobbiamo per forza accettare lavori che non sono in linea con i nostri valori se una persona non ti piace non sei obbligato a lavorare con lui quindi questo è un altro vantaggio che mi stavo dimenticando di dire e poi ripeto quello della libertà la libertà è impagabile è impagabile il fatto di poterti alzare poter viaggiare quando vuoi è bellissimo è bellissimo quindi se anche voi avete questa mentalità io ve lo consiglio anzi per collegarmi a una domanda che mi avete fatto libri interessanti da leggere e qua si apre un altro mondo per il mindset imprenditoriale vi consiglio assolutamente li sto leggendo ovviamente Autostrada per la ricchezza e Unscripted sempre di MJ De Marco uno è il primo Autostrada per la ricchezza è il primo poi c'è stato il seguito che forse è anche meglio del primo li trovate sia su Amazon sul giardino dei libri Feltrinelli penso ovunque comunque questi libri li ho letti uno l'anno scorso Autostrada per la ricchezza bellissimo e ti spiega come diventare imprenditore allora c'è una prima parte di mindset dove ti spiega perché diventare un imprenditore e non essere come tutti gli altri quindi se tu hai dei dubbi vuoi capire perché diventare imprenditore oppure il tuo obiettivo sono solo i soldi leggi questo libro capirai che ci sono tanti vantaggi del diventare imprenditore ma ovviamente anche tanti contro hai tante responsabilità questo è una cosa a parte però per sviluppare il mindset che è una delle cose più importanti per un imprenditore questo libro secondo me ti svolta io l'ho letto un anno fa ho letto circa due mesi fa il secondo Unscripted ce li ho anche qua sopra magari poi ve li farò vedere e vi svolta io ho anche lasciato il lavoro perché in quel periodo stavo leggendo Unscripted e mi ha dato una carica mi ha dato una carica di adrenalina mi ha fatto ho detto basta io devo cambiare vita devo mollare il lavoro devo fare quello che mi piace e è quello che ho fatto io non dico che sia stato grazie al libro cioè sarebbe riduttivo perché è una cosa che viene da dentro però diciamo che il libro mi ha aiutato molto quindi quel libro lì per il mindset imprenditoriale ve lo consiglio tantissimo poi dato che parliamo di libri io mi sono segnato un libricino piccolino piccolino ma molto interessante è le 22 immutabili leggi del marketing non è molto approfondito è piccolino lo si legge anche in 2-3 giorni ma anche meno però ti dà le basi del marketing ti fa capire cosa funziona cosa non funziona cosa significa marketing e quindi se non ne sapete proprio nulla questo libro secondo me è molto interessante intanto ciao Giorgio ah Giorgio allora il libro che sto parlando prima sul mindset sono due un'autostrada per la ricchezza di MJ DeMarco e il secondo che è il sequel diciamo è quello che è venuto dopo è Unscripted sempre di MJ DeMarco questo è molto bello se non l'hai letto Giorgio te lo consiglio ma probabilmente l'hai già letto davvero molto bello poi tu che leggi tanto sicuramente probabilmente l'avrai già anche letto però te lo consiglio assolutamente intanto ciao Filippo che ci ha raggiunto anche questa live mio compagno di live di settimana scorsa ne faremo altre assolutamente insieme te lo prometto non scappo Filippo non preoccuparti poi per parlare sempre di libri un altro libro che mi ha mi ha servito tantissimo è stato Le armi della persuasione di Cialdini vabbè tutti lo conoscono penso spero che lo conoscono tutti perché favoloso pazzesco libro libro pazzesco tra l'altro è bellissimo cioè ti spiega quali sono le leve psicologiche che stanno dietro alle scelte delle persone e ti fa capire quindi su quali sono le leve che devi andare a toccare quando devi convincere una persona a fare qualcosa che poi il buon Dario Albini mi ha fatto capire che ho scoperto che questo libro non era stato scritto per i persuasori quindi per i marketer era stato scritto per proteggere le persone dai persuasori quindi era un libro scritto tantissimi anni fa per una persona qualunque per proteggersi da quelle che sono le insidie dei persuasori su come ti manipolano che poi è brutto dire manipolano però sai su come agiscono sul tuo subconscio o sulle leve della persuasione i marketer hanno scoperto questo libro allora oh anche bello andiamo a vedere questo libro così io poi lo uso sulle persone ignare di queste cose questo è favoloso poi ti fa capire anche come certi progetti nascano per un motivo e poi vanno a servire per altre cose cioè è fantastico come dicevo prima la vita è particolare ti mette di fronte a strada sempre che non ti sareste aspettato così lui ha fatto un libro per proteggersi dai persuasori e invece adesso penso sia uno dei libri più letti dai marketer per andare a colpire le persone facendo leva sulle leve psicologiche eccetera quindi comunque ve lo consiglio davvero bellissimo uno dei più bei libri che ho letto ultimamente fantastico questo bellissimo poi un altro libro bello che ho letto che non mi sarei mai aspettato è Sell Like Crazy di Sabri Subi allora perché non mi aspettavo che fosse un bel libro perché era un prodotto front end cioè quei prodotti che tu butti fuori a poco prezzo per attirare l'attenzione per attirare le persone all'interno del funnel quindi a me era uscito un ad di Sabri Subi che è praticamente un digital marketer australiano che ha un'agenzia che si chiama King Kong adesso vabbè gli faccio pubblicità ma tanto lui non sa della mia esistenza per ora e e quindi è stata una delle agenzie australiane forse l'agenzia australiana più che è cresciuta più velocemente ecco e lui ha scritto questo libro e io ho detto vabbè sarà uno di quei soliti libri che ti vendono e poi all'interno ti dicono compra il mio corso compra la mia masterclass eccetera eccetera di lì però io l'ho preso e devo dire che caspita fantastico ma davvero ha una visione del marketing ti dà una visione del marketing a 360 gradi che ti svolta e ti parla di come attirare l'attenzione come usare immagini che catturano l'attenzione quali immagini usare quali testi usare quali headline uno degli ultimi post che ho fatto sulle headline ho preso molto spunto da questo libro perché davvero ti dà proprio delle cose pratiche da poter utilizzare nella tua vita quotidiana da digital marketer davvero ma molto molto figo per esempio anche la curiosità che i migliori copywriter non sono delle grandi aziende ma sono nelle aziende di riviste di riviste di gossip e magazine tipo quelli di sport fitness eccetera e sono lì i migliori copywriter perché loro devono vendere ogni settimana il loro magazine la loro rivista mentre tu sei col carrello a fare la spesa e stai per pagare e quindi magari ci sono queste riviste loro ti devono attirare con un copy con delle frasi interessanti e quindi tu lo prendi senza neanche accorgerti e quindi questa era un'altra curiosità che ho letto in questo libro poi ti parla di email marketing e di facebook ads di google ads molto carino secondo me è molto carino io ve lo consiglio se lavorate nell'ambito io una lettura gliela darei ma proprio per curiosità quindi ve lo consiglio l'ultimo che dopo sennò cioè parlare di libri staremo qua ore 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 o lì lì in alto ne avrò una ventina trentina e non posso farveli vedere ah tra l'altro li vedete ecco lì ah quello lì rosso ecco quello rosso che vedete è sell i crazy tra l'altro eccolo l'ultimo libro che vi voglio parlare che di cui ho già parlato spesso parla delle facebook ads che è un argomento molto tecnico e di fatto non ci sono tanti libri che ne parlano soprattutto in italia quindi questo libro che si chiama facebook e instagram di enrico marchetto ve lo consiglio parla di come strutturare le campagne come fare campagne always on cioè sempre accese e non accendi spegni accendi spegni di come di come strutturarle di come andare a colpire le persone giuste di come lavorare con la cbo e non e tutti questi argomenti molto interessanti quindi se siete nel settore delle facebook ads questo secondo me è il libro giusto in italiano poi vabbè in inglese magari sell i crazy potrebbe essere interessante però se non masticate in inglese leggete questo qua in italiano di enrico marchetto perché è molto figo poi morena tosi adesso passiamo un po' alle domande in live morena tosi chiede con il tuo lavoro riusciresti a viaggiare per lunghi periodi e seguire comunque i tuoi clienti in italia oppure serve anche la presenza fisica per mia esperienza no allora soprattutto poi col coronavirus cioè c'è stata un'inversione di tendenza cioè quello che prima veniva fatto in riunioni personali oppure andare dal cliente e parlare one to one eccetera è stato sdoganato quindi adesso le persone hanno scoperto la potenza del web le possibilità del web e tante cose te le risparmi quindi le call le fai su zoom le fai su google meet su skype eccetera e tante cose invece sono state tagliate cioè le cose superflue non servono quindi lavorando con le facebook ads tu puoi lavorare con clienti locali ma clienti anche io sono di bergamo posso lavorare con uno della sardegna quindi anche se a parte il discorso coronavirus io non sarei obbligato ad andare in sardegna a parlare col cliente cioè lo sento ci mettiamo d'accordo e io lavoro quindi quando tu mi chiedi riusciresti a viaggiare per lunghi periodi e a seguire i tuoi clienti in italia assolutamente sì basta fare una call ogni tanto sentirli al telefono o per mail cioè non c'è bisogno di incontrarsi quindi la risposta è sì anzi infatti tanti cosa fanno vanno a Tenerife vanno a Malta vanno a Bali stanno lì mesi c'è gente che vive proprio lì fa questo lavoro il bello del digitale è anche questo lavorare dove vuoi quando vuoi quindi la presenza fisica serve ma possiamo anche evitarlo nel senso ovvio che serve cioè se io vado da un cliente vado a trovare c'è un rapporto umano ovvio che funziona cioè ovvio che è una cosa più profonda però non sempre la possibilità di farlo quindi non precludiamoci questa cosa di poter viaggiare lavorare non è per forza necessario incontrarsi di persona ecco poi io prima avevo letto una domanda che però non sono riuscito a leggere di Mirko allora sto facendo una ricerca riguardo l'importo minimo mensile da proporre alle aziende per le facebook ads tu che mi dici ovviamente non è una domanda procuratoria o per fare i conti in tasca allora questo dipende tanto dell'attività attività c'è chi dice che per esempio Francesco Agustinis che saluto e che è un grandissimo esperto di facebook ads in Italia dice che sotto i mi pare 100 euro al giorno quindi 3000 euro al mese si sta giocando sono d'accordo è vero ci può stare però non tutti hanno quel budget ovviamente se tu vai dal locale sotto casa non ha 3000 euro da spendere in ads giusto quindi ci sono aziende che lo possono fare ed è giusto che lo facciano ma attività locali libri professionisti cioè non serve per forza spendere tutti quei soldi cioè almeno si può partire con poco e poi pian piano crescere no quindi quello che consiglio non c'è una cifra giusta per iniziare però io ti posso dire che con un personal trainer di cui ne ho parlato spesso nei miei post eccetera abbiamo iniziato con una spesa irrisoria irrisoria di 5 euro al giorno quindi 150 euro al mese e abbiamo testato con 150 euro al mese lui ha guadagnato 1500 euro quel mese un 1300 1400 quindi capisci che è giusto spendere tanto se sei una grande azienda ma se sei piccolo e non hai budget spesso se imposti bene le campagne anche pochi euro al giorno ti possono fare la differenza quindi in questo caso 5 euro al giorno hanno fatto la differenza per questa persona che iniziava da zero e ha fatto 1000 1200 1300 spendendone 100 150 quindi ovviamente ecco sotto i 5 euro non iniziamo cioè se devi spendere un euro al giorno 2 euro al giorno 3 euro al giorno no però per attività locali 5 euro al giorno va bene poi di sicuro ci sarà chi mi dice che è un errore che sto sbagliando eccetera ma io non lo dico sulla base teorica io lo dico su quello che sto testando con i miei clienti tanti clienti perché lavoro con alcune agenzie che mi passano altri clienti tanti clienti sono piccolini cosa fa? loro mi dicono guarda loro hanno 150 euro al mese guarda che hanno 300 euro al mese quindi 10 euro al giorno e tu devi portare il risultato con quello che loro ti danno ovvio che tu gli puoi dire no ne servono 20 ne servono 50 ma se non li hanno o perdi il cliente e ci può stare una strategia anche quella oppure provi a portare il risultato con quel poco che hai una volta che tu porti il risultato poi puoi aumentare quello che è il tuo compenso e quello che è la spesa in az perché sebbene che funziona con 5 euro al giorno il mese dopo te ne danno 10 te ne danno 15 al giorno e in più te ne danno anche più a te quindi soprattutto se sei all'inizio conviene anche partire con poco e iniziare a vedere se riusciamo a portare qualche risultato poi non c'è nessuna scienza esatta nessuno ti dice che se spendi 10 hai risultato e se spendi 5 non hai risultato quindi è tutto da testare si testa con poco e si testa con tanto spesso mi è capitato di aumentare il budget e paradossalmente avere meno meno risultati poi vabbè dipende da tanti fattori però non vuol dire che se tu metti tanti soldi avrai tanti risultati dipende come li metti e se tu riesci a portare risultati con pochi soldi sicuramente li riuscirai a portare anche con tanti soldi quindi spero di aver risposto anche a questa domanda vediamo se ce ne sono altre nel frattempo una è arrivata qua Filippo dice se non si sa l'inglese alla perfezione e non riesco a leggerlo tutto caspita quindi questo non riesco a leggerlo un'altra domanda interessante che però mi aveva fatto Matteo è dare consigli ai neofiti del digitale su come evitare fregature allora secondo me dipende molto dai tuoi valori mi spiego meglio lui mi ha fatto l'esempio di persone che ti scrivono in chat proponendoti i business ne vediamo a milioni gente che ti propone network marketing drop shipping amazon fba eccetera 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 tu per non perdere il focus devi sapere che quando hai trovato quello che tu vuoi fare cioè se tu hai iniziato un progetto per esempio Matteo io lo conosco parliamo spesso lui ha iniziato con un blog adesso un blog che parla di innovazioni eccetera adesso che tu hai iniziato questo blog non puoi permetterti di perdere il focus su quello che è questo progetto se in chat ti scrivono ho guadagnato un milione di euro col drop shipping ho guadagnato un milione di euro con amazon fba inizia a fare self publishing tu te ne devi fregare perché tu per tre mesi sei mesi un anno devi concentrarti sul tuo blog in questo caso oppure sulla tua attività o i tuoi progetti io sto facendo l'esempio di Matteo perché lo conosco ma se tu stai facendo stai studiando facebook ads e vuoi fare il digital marketer l'imprenditore digitale eccetera focalizzati su quello non spostarti ogni mese a fare una cosa diversa sperando di ottenere risultati perché poi i risultati li ottieni quando lavori ad una cosa sola nel lungo termine quindi come ho fatto io ho fatto facebook ads e lo sto facendo nel lungo termine poi se tra due anni sono diventato bravissimo e ne so so tutto quello che devo sapere anche se non si smette mai di imparare quindi non ci sarà mai un punto di arrivo però una volta che so poi posso dedicarmi ad altri business quindi posso delegare le facebook ads e iniziare a vedere il dropshipping l'amazon fba e tutti gli altri progetti che tutte le persone cercano di venderti e di proporti diciamo quindi dipende molto dai tuoi valori quindi scegliere quello che vuoi fare in base ai tuoi valori ma dipende tanto dalla priorità quindi tu devi dare priorità a quello che tu hai analizzato e hai deciso che sia la strada giusta per te quindi una volta che tu hai fatto la tua analisi hai deciso che questa è la tua strada che non è semplice non è semplice capire la propria strada una volta che l'hai capito basta tu chiudi gli occhi metti il paraocchi e vai dritto verso l'obiettivo dedicati sei mesi un anno due anni a quel progetto poi ovvio che se dopo due anni non funziona forse hai sbagliato qualcosa o puoi iniziare a vedere altrove ma se tu inizi un mese poi cambi poi il mese dopo esce una nuova cosa più interessante cambi finisci in quella che è la sindrome dell'eterno corsista ci ho fatto un video su youtube a riguardo e cosa intendo intendo quelli che studiano studiano e poi non applicano mai in questo caso si tratta di partire con una cosa poi andare con un'altra studiare un'altra cosa eccetera eccetera quindi ecco questo è un grande errore da non fare quindi mi raccomando state attenti perché non è che sono fregature però non dovete perdere il focus su quella che è la vostra attività e su quello che è il vostro obiettivo mi raccomando Eden mi chiede di quanto è stato il tuo primo compenso e cosa hai provato allora il mio primo compenso allora non so se dirlo o non dirlo adesso ci penso allora il mio primo compenso penso sia stato di no primo primo 600 600 mi pare a dicembre con un imprenditore online cioè un imprenditore sì un imprenditore più era un si occupava di fitness online diciamo non era un personal trainer aveva un prodotto particolare che vende online e il primo compenso è stato di 600 che però era da dividere in due perché eravamo in coppia io e un mio amico perché avevamo iniziato insieme e quindi 300 e è stato bello cioè è ovvio che è stato bello perché io in quel periodo lavoravo in azienda no? portavo a casa il mio il mio stipendio da operaio un buon stipendio da operaio e lavorando solo un paio d'ore la sera sono riuscito a guadagnare quei 300 euro e quindi ho detto caspita che bello e in più era una cosa che mi piaceva fare quindi è stata una sensazione molto bella è stato molto carino e poi è quello che ti dà la carica per poi continuare poi ovviamente non bisogna mai come dicevo all'inizio della live non bisogna mai basarsi sui soldi cioè non è quello che fa la differenza ovvio si lavora per guadagnare ma l'importante è fare qualcosa che ci piace che ci dia passione e e una volta che sono riuscito a guadagnare i primi soldi facendo quello che mi piaceva quella è stata è stata una sensazione bellissima perché ho capito che non dovevo per forza fare qualcosa per il semplice gusto di guadagnare cioè non dovevo fare l'operaio solo per portare a casa i soldi io potevo anche guadagnare facendo ciò che mi piaceva e anche tu anche voi potete farlo cioè l'online ti dà un sacco di possibilità quindi se a te non piace il tuo lavoro non è che devi mollarlo e poi buttarti nel vuoto ma inizia a costruirti qualcosa di tuo il tuo progetto inizia a studiare inizia ad applicare inizia a testare e quando vedi che arrivano i primi soldini lavorando poche ore al giorno perché il resto della giornata ovviamente sei occupato allora lì c'è la svolta è la svolta quando capisci che puoi guadagnare facendo ciò che ti piace no? che questo non significa per forza lavorare online perché se tu hai la passione per le macchine e ti piace fare il meccanico e nel frattempo invece lavori in ufficio allora lascia il tuo lavoro da ufficio e vai a a montare le gomme sulle macchine a fare il carrozziera a fare il meccanico cioè ognuno ha le sue passioni le sue esigenze la cosa più difficile ma anche più importante è capirlo e poi trovarlo e farlo quindi non sentirti obbligato a fare una cosa solo perché devi portare a casa lo stipendio cerca di capire cosa ti piace cosa vuoi fare e poi farlo poi cerca trova il modo di farlo di arrivare a quell'obiettivo questo è importante perché poi dovrai lavorare tutta la vita a meno che vinci la lotteria ma è stato anche studiato che chi ha vinto la lotteria poi ha perso tutto perché non sapeva gestire il denaro però dovrai lavorare tutta la vita volente o nolente quindi se devi lavorare per 40 anni perché devi fare una cosa che non ti piace non ha senso piuttosto fai una cosa che ti piace ti fa guadagnare meno all'inizio ma fidati che se una cosa ti piace uno non sarà mai un peso farlo due se sei se ti piace diventerai bravo a farlo quindi se diventi bravo a farlo puoi guadagnare di più quindi questo è il mio consiglio e è quello che ho fatto io nella mia vita cioè almeno quello che sto provando a fare e per ora sono molto soddisfatto della mia strada della strada che sto prendendo e di quello che sto facendo poi da qui a arrivare a 30 anni come mi chiedeva Thomas all'inizio della live non so cosa succederà però per ora sono soddisfatto e sto andando dritto verso l'obiettivo nel frattempo saluto Francesca che che ci ha raggiunto nella live ciao Francesca è la mia ragazza grazie per il supporto poi vediamo altre domande che mi avevo mi ero segnato allora come evitare fregatore nel digitale abbiamo già risposto prima persone di perfilarsi online idem quindi se non abbiamo altre domande possiamo anche chiudere direi come al solito sbaglio in quadratura allora questo è il risposto questo abbiamo risposto ah questo non ho risposto questo è bellissimo Marco Rover Marco Rover chiede quali sono i parametri da calcolare alla fine di una Facebook Ads allora se ho capito la domanda cioè almeno per come la vedo io i parametri da guardare quando tu fai partire una campagna quindi che ne so ce l'hai attiva da un mese tu devi capire le cose più importanti da guardare sono il costo per risultato il costo il CPM il costo per mille impression e il ROI quindi il ritorno allora costo per risultato cosa sarebbe? in base alla tua campagna tu hai un obiettivo se è traffico l'obiettivo è click se è lead generation l'obiettivo è la lead se è campagna per messaggi l'obiettivo è messaggi il costo per risultato cos'è? è quanto ti costa raggiungere quell'obiettivo quindi se tu hai l'obiettivo traffico quanto ti costa un click può essere 5 centesimi 2 centesimi 10 centesimi 20 centesimi quello è il primo parametro da guardare idem per le lead quanto ti costa una lead? 5 euro 10 euro 30 euro eccetera oppure quanto ti costa un messaggio ecco questo è il primo secondo me uno dei dati più importanti da guardare poi l'altro dato importante da vedere è il cpm il cpm è il costo per mille impression quindi quanto ti costa questa campagna mostrarla a mille persone le impression cosa sono? per chi non lo sapesse c'è una differenza tra impression e copertura allora impression è quante volte cioè quando una persona vede o comunque incontra la tua inserzione quindi quando scrolli tu la vedi e passi oltre oppure clicchi la copertura è quando tu invece clicchi cioè quindi quando tu clicchi realmente sull'annuncio e lì scatta quella che è la conversione quindi il click il lead eccetera quindi mille impression costo per mille impression è quanto ti costa mostrarla a mille persone se questo valore è basso ottimo vuol dire che tu con pochi soldi riesci a mostrare questa inserzione a mille persone se è alto devi andare a capire perché quindi devi andare a lavorare sulle creatività sui copy e su cosa funziona e cosa non funziona l'ultimo dato da guardare forse il più importante è quello che è ROI cioè ROI perché si dice ritorno sull'investimento però possiamo anche dirlo come ritorno o guadagno eccetera quindi se tu spendi 200 euro in ads e te ne tornano 100 vuol dire che non va bene cioè è ovvio che tu hai guadagnato 100 dalle ads ma se ne hai spesi 200 sei in perdita quindi questo sicuramente è un valore da valutare e idem viceversa se tu stai spendendo 200 e ne stai guadagnando 500 allora è una cosa che va bene puoi aumentare il budget eccetera eccetera e puoi andare a scalare la campagna quindi questi sono i parametri più importanti secondo me da guardare quando si fa una campagna poi Antonella Antonella Arianna 96 chiede c'è un modo per fare soldi da casa la risposta è sì cioè certo che si può cioè ci sono tantissimi modi per farlo dipende da te cosa sei portato a fare cosa ti piace fare e quanto impegno ci metti nel farlo perché tante volte quando vediamo quelli che guadagnano una barca di soldi online e ti vendono corsi eccetera loro stanno guadagnando online poi dipende sempre da come lo fa cioè sono veri i loro guadagni spesso lasciamo stare quelli che mettono guadagni finti vabbè quelli è una categoria a parte di truffatori e non ne voglio parlare ma quando uno guadagna online cioè i risultati ci sono cioè io sto guadagnando online io sto offrendo un servizio di facebook ads online io non sto non vado in ditta non vado in azienda non lavoro in azienda lavoro da casa quindi lavoro online quindi io guadagno online io vivo online perché questo è il mio lavoro io campo di questo quindi la risposta è sì dipende un po' da cosa vuoi fare puoi fare dropshipping puoi vendere online puoi fare amazon fba puoi imparare a fare le facebook ads e offrierti come professionista puoi diventare una copywriter quindi imparare a scrivere testi persuasivi puoi fare grafiche puoi anche andare su fiver che è un sito fiver o appwork e proporti come traduttore c'è gente che viene pagata per tradurre dei testi cioè c'è una persona che ti dice io ho questo testo in inglese oppure in italiano eccetera me lo traduci in questa lingua tu sei laureato in lingue ti offri se accettano il tuo profilo guadagno online facendo traduzioni quindi si può fare tutto cioè tutto è possibile puoi vendere corsi puoi vendere consulenze il mondo online ormai è qui è il presente e si può assolutamente guadagnare e si deve si deve guadagnare assolutamente allora Elena Santini mi chiede tu di cosa ti occupi e poi risponde fa un'altra domanda e dice come riconosci dei truffatori che pubblicano falsi guadagni allora questo allora spesso non è semplice perché sono bravi a nasconderlo quindi non è semplice basta però capire se ci sono delle recensioni positive oppure potresti andare perché spesso cosa fanno ti fanno vedere i guadagni e ti dicono compra il mio corso ecco tu vai da quelli che hanno comprato il corso lì provi a trovarli e gli chiedi com'è il corso cosa ne pensi eccetera spesso mi è capitato che di vedere persone che hanno comprato corsi da migliaia di euro e che mi sono venuti a dire che il corso non valeva più di 50 euro l'ho fatto chiedendo a chi l'aveva acquistato quindi questo è un modo assolutamente per rispondere alla domanda di cosa ti occupi ho fatto anche dei video su youtube dove parlo d'argomento adesso tanti mi conoscono già conoscono già la mia storia non vorrei ripetere quello che faccio comunque di base creo campagne pubblicitarie per imprese professionisti che vogliono sponsorizzare la loro attività che sia locale online e portare più clienti e più persone a loro ai miei clienti quindi dopo se vuoi approfondire c'è la mia pagina instagram dove porto contenuto ogni giorno c'è il canale youtube dove ho approfondito questa tematica e trovo tutti i miei canali c'è anche il mio sito eccetera quindi se vuoi trovare le risposte lì le trovi sicuramente poi quanto è importante il mindset chiede luca miccoli quanto è importante il mindset tantissimo tantissimo perché per lavorare online secondo me devi avere il mindset giusto altrimenti non lo puoi fare secondo me sembra una cosa un po' cattiva da dire però è così se tu non hai il mindset giusto da dire fare l'imprenditore è ha lo stesso rischio che lavorare in ditta se tu finché non entri in questa concezione non lo farai mai perché se tu vedi il lavoro da dipendente come lavoro sicuro e il lavoro da imprenditore come lavoro rischioso tu non farai mai il passo per diventare imprenditore starai sempre nella zona di comfort e non rischierai mai quando tu capisci che il lavoro da dipendente ha lo stesso rischio del lavoro da imprenditore perché è vero perché se la tua azienda chiude tu sei sulla strada l'imprenditore ha solo più responsabilità e la responsabilità è tutta in capo a te però di per sé il rischio è uguale quindi quando tu capisci questa cosa ti svolta ti svolta la vita e quindi questo è dovuto soprattutto dal mindset l'ultima domanda e poi chiudo perché è passata un'ora è tu come hai imparato a fare questo lavoro? allora io ho fatto un paio di corsi interessanti ho letto tanti libri e soprattutto cosa che ho imparato è che questo lavoro lo impari facendo pratica quindi quando io vi dico se siete all'inizio offritevi gratis offritevi a poco prezzo ai vostri clienti lo dico proprio per questo motivo perché quando smanettate quando iniziate a toccare con mano le campagne piuttosto che i profili di altre persone è lì che imparate davvero non dai corsi i corsi possono dare le basi e ci sono corsi da 1000 euro e corsi da 20 euro che bene o male ti danno l'infarinatura e ti fanno capire come procedere però quello che fa la differenza è quando tu ti metti lì inizia a sbagliare inizia a smanettare e a trovare poi soluzioni ed è quello il modo che ti fa il modo sì che ti fa imparare a fare qualsiasi cosa online e offline sbagliare provare riprovare e imparare questo è quanto siamo arrivati penso ormai a un'ora di live perché il mio orologio segna 14 e 23 ho iniziato a 14 e 28 quindi ci sarebbero gli ultimi 5 minuti ma dato che non ci sono altre domande io direi che possiamo chiudere questa live per chi non avesse avuto la possibilità di vederla comunque la caricherò su Instagram TV e probabilmente anche su YouTube e su Podcast quindi non preoccupatevi se non siete riusciti a vederla tutta o se volete tornare indietro e vi siete persi dei pezzi mi trovate sia su YouTube che su Podcast che su Instagram TV quindi io vi ringrazio a tutti quelli che sono stati qua per quest'ora con me e vi ringrazio per le domande che mi avete fatto spero di aver risposto a tutto spero che sia stato tutto chiaro e semplice da capire se avete altre domande scrivetemi pure in privato e io sono apertissimo io rispondo sempre a tutti quindi scrivetelo in privato così organizziamo magari un'altra live dove rispondo a tutte le altre domande che non sono riuscito a rispondere oggi quindi vi ringrazio ancora per essere stati con me e noi ci vediamo alla prossima live ciao ragazzi e buona giornata grazie a tutti